25 marzo 2013, questo è lo scavo fatto, mi trovo a Fumane in provincia di Verona e abbiamo i primi metri, 5, 6, 7, 8 metri di detrito diversante costituito da frammenti litoidi calcarei in matrice argillosa, il numero di colpi era compreso tra 2 e 5, questo è il materiale scavato, questo è il contesto, abbiamo qui il versante, la falda non è stata rilevata, sono state fatte le prove penetrometriche dinamiche, il nuovo capannone solgerà di fianco a quello esistente.